Signore e signori, ecco a voi Stefano Giandri, medialocca con il denaro, unicolo alle poca anni andata che questo ripeto si intibisa venuto 19 milioni di parti in questa Europa, il pubblico in partice per il suo bill, questo è il netto unico degli atti di ghiaccio, ma ce la vuole rincare, Bernardo! Ce la ricordate ragazzi, ce la ricordate tutti questa! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!